ma siamo collegati perché non vedo niente qui ma che è finito? no ma che bello buonasera ma grazie che bella sorpresa maestro buonasera dico che è finito lo spettacolo di Tortora? eh sì maestro è quasi finito cazzo ma hai detto ai 10 vedi che è finito mi dispiace ma che avete fatto? che hanno fatto? tante cose, canzoni, sketch, monologhi, invitazioni sono dei poveri terrelisti vedi fanno i scherzi io le chiedo scusa non siamo potuti intervenire perché da quando io e Salvatore abbiamo in casa questo vegetale terrestre cos'è questo vegetale terrestre? siamo sempre collegati che vediamo questa televisione questi programmi il digitale terrestre ma sapete tutto questo? vegetale terrestre è una parabola che si collegano e si possono vedere dei programmi ma non deve essere regolata bene perché? c'era tutta la notte un giapponese che cagavano ma che ne frega ma vabbè di essere regolata vabbè sarà sicuramente un canale estero di questi un po' particolari un canale estero di questi un po' particolari sì l'ho appena detto ecco senta ma che cosa a proposito di questo bouquet sky questo bouquet sky dico che cosa le piace di più? diciamo visto che che ha detto? dico del bouquet del bouquet sky è che quella sempre in nuda stava chiede a bouquet ma che bouquet? maestro chiedo scusa già volevo dire del gusto noi purtroppo siamo sempre in ricerca di canali dove si può vedere qualche cosetta no no giapponesi che cagano e vabbè non abbiamo capito ma mi rimette Marai come era prima no? no è meglio senta vabbè ma cosa vede? qualche programma in particolare? oggi ci siamo collegati con questo canale è Nubolario 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 ah Nubolario tutte macchine che correvano molto interessante a me mi piace perché io mi addormento mi alzopiscono sì e poi tra l'altro gascaffagiolo perché perché? abbiamo appena arrottamato la lanciatemela eh era ora e beh c'era 61 anni eh di vero abbiamo comprato questo Ibridor cos'è? Ibridor è una marca cos'è? non fa niente non sapete tutto ma non ti domando? è una macchina una vettura ah che si colleghano a una presa di corrente ah ibrido sì e uno la ricarica e va e va però con questa prolungana che è solo 200 metri eravamo qui intorno non potevamo andare no ma che prolunga scusi è successo un grave incidente ahia perché un vecchietto che traversavano è inciampato sulla prolungana e si è andato per terra ma scusi come sta? niente sta meglio ma lei la deve staccare la prolunga che si tiene la prolunga attaccata? ma che ci fanno pagare pure ma con chi sta parlando? ma tu quando hai collegato? devi scollegare dopo hai capito? che cazzo fai se no? chi è questo signore vicino a lei? salvatore questo è al servizio da me da tanti anni per cui mi fu consigliato da Andreotti sì addirittura eh ma quant'è che sei con me? 42 anni 42 anni ah la faccia? è tanto sono morti 4 cani nel suo tempo ma che termine di paragone scusi ho tolto tutto il cibo al cane e ho dato a lui ha dato a lui cibo dei cani? i primi tempi gli facevo delle iniezioni ricostituenti ai cani? ma era diventato verde carcana a lui il cane è morto non si capisce niente stiamo a collegare con lui e creda il mangiare del cane a un certo punto siamo passati a un pappone pappone? un pappone con dentro degli ingredienti nutritivi che consiste? chi è? che consisti? lo conosci tu? no 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 non lo conosciamo? ma chi? questo che consiste? no dico il pappone in che consiste il pappone? ah ecco in che consiste beh sono pezzi di piccoli escrementini di cani no 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 senta la cosa poi dei buesli di buesli interiora pure che l'interiora che vuoi fare? vabbè ti piace no? vabbè sempre vai vedere i segni no 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 per favore per favore è un uomo molto forte ha resistito a tante immagini i papponi tante vessature che io gli ho fatto ma che bello quel telefono posso dirle? lei è veramente ecco e questo è l'ultimo ritrovato questo è l'iForce prego iForce ok è un telefono cellulare no cellulare quello è bello perché si possono fare delle applicazioni no no maestro per favore ma che fate? allora funzionano anche all'estero ma c'è dentro tante applicazioni per cui qualsiasi cosa lei vuole la fa davvero? lei parla e dice chiamano ah sì? Salvatore quello chiama Salvatore ecco faccia vedere eh? faccia vedere chiamano Salvatore eccomi maestro no guardo stai a fare l'applicazione prima perfetta va bene non ho mai capito bene come funziona quindi c'è anche dei software di comunicazione cazzo d'oltre ho messo a posto io scusi ha ragione non ho capito dico quei altri software perché all'estero si usa per esempio all'estero noi abbiamo whatsapp whatsapp whats com'è com'è whatsapp ma un signore? che non si pagano per cui ah whatsapp io solo quello uso whatsapp mandano dei messaggi incomprensibili si fotografano le parti no ma chi ma chi fa io non ho capito sarà il vecchio dell'altra sera che è cascato eh certo quello della prolunga vabbè io saluto tutti questi del teatro grazie maestro grazie per essere così affettuosi con me fu questo tortolo poveraccio no maestro ci manca ci manca tanto non ha fatto l'imitazione non l'ha fatta per carità ma le vuole un sacco di bene meno male a questo punto io dico ma avete fatto qualche canzone mia? eh no fino ad ora no ma credo che una l'avevamo preparata vero ragazzi? eh meno male sentiamo un po' sì voilà va bene